Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa nemmeno la domenica, perché l'importante è vivere bene e amare il prossimo? È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte inesauribile dell'Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa Domenicale, perché solo con la grazia di Gesù, con la Sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il Suo comandamento e così essere Suoi testimoni credibili. Grazie. 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 Grazie.